Un incontro lungo, dunque 45 minuti, quello che si è svolto dalla Casa Bianca tra il presidente uscente Barack Obama e il neo-eletto Donald Trump. Un colloquio eccellente che comunque non ha risolto tutte le differenze fra di loro e tra l'altro è stata anche cancellata la foto opportunity dell'attuale e futura coppia presidenziale che restino morti delle diligenze, lo si era capito, sin da quando gli Obama avevano attaccato duramente il candidato repubblicano durante la campagna elettorale e anche dopo l'incontro dello stesso Trump con lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan. Intanto sono 100 gli arresti che sono avvenuti nel corso delle proteste anti-Trump che hanno attraversato tutte le grandi città americane. Intanto il nuovo presidente avrebbe già elaborato una short list di 41 nomi per riempire le varie caselle della futura amministrazione. Ricordiamo che il giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca avverrà il 20 gennaio 2017.